Nella vita, nello sport, sulla strada, puoi essere coperto di fango o di gloria. Ma se hai l'amico giusto al tuo fianco, la vita può essere una grande avventura. Rexton è l'amico che ti fa sentire forte e sicuro, insieme a tutte le persone che ami. Rexton, sicuro di sé. Viene a scoprirlo nelle concessionarie San Gyeong, sabato 28 e domenica 29, ad un prezzo che ti stupirà.